The President Club, Matteo Saba esordisce, lo abbiamo capito. Il problema è che ha esordito contro Rosario Riccardo, che secondo me, comunque, personalmente parlando, era un po', insomma, un po' eccessivo, era un po' come sparare sulla croce rossa. Cioè, Rosario stava già vivendo una situazione difficile perché noi non sappiamo Rosario cosa stesse vivendo in quel momento storico, in più aveva una shitstorm, gente che gli dava contro a prescindere da ciò che faceva. Un po' malsano l'interesse nei confronti di Rosario da parte di tutti, e ho detto losario, di Rosario, perché la gente voleva sapere i fatti suoi. Lui ormai era apparso sul web, la gente doveva sapere e verificare qualcosa che non esisteva. Poi io non so lui che lavori abbia mai fatto perché non mi sono mai interessato di Rosario Riccardo, non mi ha mai fatto nulla di male e amen tutto lì. Quindi, per carità, io non faccio occhio per occhio perché si diventa ciechi, mai. Però se tu dici qualcosa sulla mia persona, poi magari mi sento naturalmente in diritto di dover o replicare, se la persona potrebbe meritare la replica, o di discuterne. Cosa ha fatto Matteo Saba? La sua carriera, direi che, l'ha improntata proprio sul suo essere classic. Che significa, Fabio, essere classic? Lui è una persona classica, non solo che si veste in modo classico, ma che parla come un imprenditore o come un venditore di case, secondo me. Io dal punto di vista, che ne so, quando senti gli immobili, real estate, quando senti un real estate, un porta a porta immobiliare, lo senti parlare, lo vedi classico, poi scopri alla sera, almeno. Ho degli amici che lavorano nel settore immobiliare, alla fine sono dei tossicodipendenti, alcuni miei amici, ed è bellissimo perché li vedi vendere le case, sembrano, madonna mia, delle persone stupende. Poi, se non le conosci, madonna, se le conosci è molto peggio. Però, quel Matteo Saba appaia da nulla a blastarlo quanto sta già sotto un tir. Sì, è il Simo, sì, infatti è questa l'affermazione brutta, il che, se avete un minimo di cervello, dovreste capire quanto Matteo Saba, in realtà, non sia, secondo me, una persona positiva e da seguire. E, tantomeno, secondo il mio modesto punto di vista, non solo non andrebbe seguito, ma se lui propone, tipo, qualcosa online, non andrebbe minimamente seguito. Non perché non ne sia in grado, eh, per carità, perché, posso dirlo da ignorante a pelle, mi permetto di dirlo, non lo userei mai, secondo me, Matteo Saba non va seguito, quindi, assolutamente. Però voi siete liberi di seguirlo, se vi soddisfa e vi rende felici, insomma, sono molto contento. Guardiamo. Questo è The President Club. Cosa vedo? Un ragazzo in gilet che si rade i capelli, non so se sia calvo per scelta o per DNA. Ma diamo un'occhiata, facciamo una piccola analisi. The President Club, un bel logo blu, lo sfondo l'ha scelto blu, ha un che di serio, The President Club. Il nome, sinceramente, mi ricorda a me già un canale Telegram. Ciao ragazzi, benvenuti a The President Club. Clicca qua sotto, canale Telegram verificato, no naturalmente scam, no crypto, non si parla di cose, qui si parla di vera finanza e tanta bella roba. Naturalmente ve lo dice Fabio Zeta, ovviamente. Leggiamo la sua sezione informazioni, giusto per fare qualche risata. Sono Matteo Saba, anti-crypto forex per eccellenza. Condivido la mia passione per i viaggi, l'economia, le auto, gli orologi e lo sport. Metto a disposizione la mia esperienza con l'obiettivo di creare condivisione, portando ospiti speciali per ogni tematica. Non sei Ivan Grieco, che sicuramente supporterà, mi sembra che addirittura lo definisca amico, il che già fa ridere. Non sei Human Safari, non sei Matteo HS, non sei... non sei Grimbaudo. Ok, crypto forex anti, ci sta anche se negativo, un po' come la caccia alle streghe, che si comporta ai miei confronti, la pigliamolo. Ivan Grieco gli ha parato il culo cancellando il VOD della sua patetica ospitata? Nooo, Stefano, occhio. Allora, io vedo la bio e la about me, stessa roba. Leggiamo un po' se è proprio identica. Ah, ok, eccolo qua. È qui che secondo me la cosa fa un po' ridere. Allora, presupponiamo tutte le mie affermazioni, ovviamente, i miei punti di vista. Matteo Saba è ricco sfondato, è pieno di soldi, ha auto, donne e forse anche puttane. Mi dissocio da questa affermazione così becera, Fabio, basta. Basta. Io con puttane, ragazzi, intendo delle ragazze rigorosamente pagate con questa affermazione dispergiativa, ma non dispergiativa della persona, che è la parola che è un po' dispergiativa perché non dà il valore. E quindi non dà il valore, non che la diano. Il fattore che la diano è positivo. Quindi rettifico quello che ho detto e mi dissocio. Magari ha delle fantastiche escort al suo seguito. Chi lo sa, io glielo auguro, magari è anche fidanzato, magari. Senti libero Matteo Saba di non riprodurti mai, mai. Adesso andrà a dire, ecco, vedi, mi sta dicendo che io... È legale, Matteo Saba, è legale, è rispetto anche alle regole. Vorrai piangere anche su questo? Mandami i concine che ridi. Un vero imprenditore non perde tempo con queste robe chiunque. Boh, Nignai Tofu ha capito tutto, esatto, è proprio così, secondo me. Anche perché, leggo qua, lo sto scoprendo adesso, metto a disposizione la mia esperienza con l'obiettivo di creare condivisione? Cioè, ragazzi, quindi devo dire che... Devo chiedere a un sacco di miei amici imprenditori veri, secondo me, imprenditori. Perché secondo me lui non è che non lo sia vero. È un unico imprenditori che non ha quel verificato, avete capito? Adesso puoi comprarlo su Twitter. Twitter? Eh? Non Twitter. Twitter? Ha, che bello Twitter. Matteo è amico di imprenditori veri. Esatto, ma se è amico di imprenditori veri, che ci fa su Twitch? Ragazzi, non voglio offendervi, però la verità devo dire. Voi credete davvero che un imprenditore passi attraverso Twitch? E perché, sino ad oggi, lui è solo primo a farlo? Boh, sembra affermato, Fabio, sembra più un riccone annoiato. Ma anche secondo me il coach è così. La penso fervidamente. Penso davvero che Matteo Saba sia un riccone che si annoia. Che però ha capito che attraverso questa piattaforma, bellissima, puoi tranquillamente, puoi tranquillamente attrarre un certo tipo di pubblico che potrebbe essere interessato a qualcosa in cui tu sei interessato. Perché io leggo che il suo obiettivo è creare condivisione, portando ospiti speciali per ogni tematica. Qua in realtà, dalla sua bio, condivide la passione dei trapper. I viaggi, Dubai, economia, le auto, gli orologi e lo sport. A me, personalmente, parlando, mi sembrano quegli argomenti da 104. Mi sembrano quegli argomenti da bar. Oh, bello, parliamo oggi, hai detto il sole 24 ore. Oh, guarda il sole 24 ore. La bamba sta scendendo, raga. I Los Lobos. Parla di parlare la bamba, raga, qua.